Ciao ad Alessandro di 4V d'Italia. Oggi il tema che andiamo ad affrontare è quello della manutenzione ordinaria e soprattutto della qualità degli oli che vengono utilizzati. Giusto per arrivare subito al punto. Ecco cosa succede se utilizzate un olio del supermercato. Questo è un pistone che ha preso gioco sia nella parte delle bronzine sia nella parte in alto del pistone e praticamente non rifagli il motore. Quindi una raccomandazione che noi facciamo è di accorciare i tempi per quanto riguarda i cambi dell'olio e soprattutto usare oli di qualità. La nostra officina è a vostra disposizione per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ci occupiamo esclusivamente di Jeep e queste cose noi cerchiamo di evitarle.